Non poteva passare inosservata a rivelazione fatta ai nostri microfoni dal direttore del CERD Roberto Calabria che nel corso di un'intervista aveva parlato dell'utilizzo del fentanyl come sostanza di taglio di eroina e cocaina. Una pratica emersa attraverso le analisi ematologiche effettuate su un tossicodipendente abituale che mostrava segni di peggioramento delle condizioni non riconducibili all'assunzione delle sostanze note. Una scoperta inquietante che ha svelato uno scenario preoccupante che può avere conseguenze devastanti sui consumatori. Una notizia che la Didia di Catanzaro ha recepito immediatamente. La procura distrettuale ha convocato il direttore del CERD e la responsabile del laboratorio dell'ASP Bruzia che ha effettuato gli esami per approfondire la vicenda. Del resto nel mese di aprile il sistema nazionale di allerta rapida per le droghe coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga ha diffuso un'allerta per la presenza di fentanyl riscontrata tramite verifiche svolte all'Istituto Superiore di Sanità come sostanza da taglio in una dose di eroina sequestrata nella zona di Perugia. Una circostanza che aveva portato ad attivare il piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl con l'invio dell'allerta a tutte le forze di polizia e a tutte le amministrazioni. Il fascicolo d'inchiesta aperto a Catanzaro servirà a monitorare il fenomeno e a contrastare il tentativo dei trafficanti di introdurre in modo occulto la sostanza presente nel campione perugino in una quantità rilevata del 5% che assunta dai consumatori a loro insaputa li porterebbe a una dipendenza ancora più complessa e dannosa per l'organismo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.